Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video di Fortnite Guida, la prima guida di Jennifer Walters che dice di visitare il suo ufficio legale Ma dove trovarlo? Ragazzi, apriamo la mappa, si troverà a Corso Commercio E la casetta esatta è proprio quella che vi ho appena pinnato Vi ricordo di consultare tutta la playlist presente sul canale per ogni singolo personaggio di questo pass battaglia Se non riuscite a completare una missione Soprattutto condividetela con tutti i vostri amici Ragazzi, ve ne sarei davvero grato La nuova casetta di Jennifer è proprio qui ragazzi Andiamo a rizumare la mappa Ci troviamo qui Noi passiamo subito alla seconda missione Vi aspetto tra pochissimo nel prossimo video Mi raccomando, non mancate Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale A tra pochissimo e come al solito un bel SIA BRULEZ SIA BRULEZ SIA BRULEZ